ciao ragazzi bentornati sul canale del coach oggi faremo insieme uno di quegli allenamenti che tanto vi piace un allenamento estremo 25 minuti tempi di esecuzione tempi di recupero assolutamente variabili nel mezzo avremo delle pause in cui potrai rifiatare che ti comanderò io iniziamo subito inizieremo con 20 secondi esecuzione 10 secondi di riposo tra esattamente 10 secondi andrò io stesso a definirti gli esercizi mano a mano vuoi allenarti tre volte in diretta con me vieni sul mio gruppo facebook inizia a farti il culo seriamente inizieremo con dei push up 3 2 1 via cervicale neutra addome contratto pollice all'altezza del petto aria fuori guarda a terra i gomiti a 45 gradi al dorso ultimo stop 10 secondi andiamo a terra schiena a contatto con il terreno faremo dei crunch mento vicino al petto naso che va verso il cielo via iniziamo in maniera molto semplice poi spingeremo fino a livello estremo 1 2 3 segui il mio ritmo stop ancora 10 secondi andiamo in piedi ampiezza delle gambe leggermente superiore da quelle nostre spalle punta e piede alle 11 e 5 squat via apnea aria fuori qui accosciata completa 90 gradi tra ginocchio e caviglia solo 5 secondi sul cronometro vai stop andiamo a terra adesso avremo il petto sul terreno back pull per il dorso ogni volta che tiriamo le braccia a noi petto in alto fuori aria fuori aria fuori guardo di volta a terra stop 10 secondi recupero dopo di che sedere a terra v-up mi raccomando porta le gambe a chiudersi al libretto verso il petto vai facilitato così mani ampie all'altezza delle spalle petto ben aperto spalle indietro forza 3 2 1 qui stop ancora 10 secondi dopodiché in piedi esercizio molto semplice ginocchia in alto skip vai conferisci stabilità e soprattutto ritmo al movimento all'esercizio con l'ausilio delle braccia forza 3 2 1 stop ce ne andiamo qui a terra adesso switch climber non è un mountain climber qui adesso sinistro porta il piede vicino alla mano lateralmente forza leggero rimbalza stop tutt'altro che semplice ancora un esercizio cardio andiamo in piedi jumping jack massima coordinazione tra braccia gambe respirazione vai forza 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 siamo all'inizio prendilo come un riscaldamento andiamo 3 2 1 stop ancora due esercizi in questa prima parte faremo un walk out giù camminando ci srotoliamo e poi ci arrotoliamo di nuovo su via su stop terminiamo questa prima parte con un leg switch da qui chiusi a terra 3 2 1 via sinistro destro sinistro destro via distendi bene la gamba forza calcio 2 1 stop da questo momento metti in pausa il video un minuto di recupero si riparte aumentiamo il tempo di esecuzione 30 secondi di esecuzione 10 secondi di riposo esattamente fra 10 secondi ripartiamo ancora push up questa volta però spostamento side to side 3 2 1 addome contratto giù ci spostiamo giù chiudi apri chiudi apri chiudi apri chiudi apri se non riesci questi esegui sulle ginocchia vai chiudi apri forza qui ultimo stop 10 secondi solo ai miei di recupero gambe sua squadra andiamo sulle punte dei piedi 3 2 1 via aria fuori 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 la difficoltà degli esercizi sarà incrementale in questo workout spingi sempre al massimo andiamo 3, 2, 1 stop ben fatto ancora squat mi raccomando il sedere indietro oltre che in basso 3, 2, 1 via forza, forza ancora 10 secondi forza solo 5 spingi 2, 1 qui ultimo stop fino all'ultimo secondo spingiamo dentro around the world da qui solleviamo il petto quando portiamo le braccia vicino ai fianchi vai ritmo sguardo fisso a terra mantieni neutro la cervicale gambe semi divaricate punte di piede a terra forza di piedi a terra forza Scrunch, via. Aria fuori. Importantissimo nell'esecuzione di questo esercizio mantenere la zona lombare a contatto col terreno. Spingi costantemente con l'addome per ottenere questo. Le gambe non si distendono, rimangono a 90 gradi. Cinque. Ultimo. Stop. Dieci secondi, dopodiché ancora skip in versione Prisoner, quindi mani dietro la nuca. Via, ora. Qui trovare la coordinazione è più difficile, non abbiamo l'ausilio delle braccia, quindi mi raccomando. Massimo equilibrio e stabilità, ginocchio in alto, via. Via, 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 dammi il massimo, via, spingi. Tre, due, uno. Stop. Ancora switch mountain climber. A terra, destro, sinistro. Tre, due, uno, via. Ritmo mantieni, destro, sinistro, forza. Andiamo, 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 non mollare. Ancora 12 secondi. Forza, 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 dai. Mettici tutto quello che hai adesso a disposizione di energia, dai. Stop. Da qui, pochi secondi, jumping jack. Tre, due, uno, vai. Ritmo. Quando le braccia scendono l'aria va fuori e le gambe si chiudono. L'ampiezza, il passo delle gambe non è troppo ampio. Piccoli saltelli, via. Ma voglio ritmo, intensità, forza. Due, uno. Stop. Adesso andiamo a terra. Walk out. Ci distendiamo e poi ci richiudiamo. Tre, due, uno. Vai qui. Bene. E poi su. Via. Contrai l'addome quando scendi in basso. Non panciare con l'addome verso il basso, ma contratto. Su. Forza. Ultimo. Stop. Da qui facciamo open, close, plank. Vai. Apri, chiudi, apri, chiudi al ritmo, forza. Poi ci sarà un ampio riposo. Adesso spremiti e dai tutto. Solo adesso 12 secondi sul cronometro, forza. Dai ancora il tuo massimo. Andiamo. Stop. Bene, da questo momento recupera due minuti. Metti in pausa il video. Ci vediamo tra poco. Spero che siate pronti perché adesso spingeremo veramente il nostro fisico al limite e cercheremo anche di superarlo. 30 secondi di esecuzione, 10 secondi di recupero, solo 5 esercizi, ma dobbiamo fare il numero di ripetizioni massime. Inizieremo fra 10 secondi con push-up a cannone, fortissimo. Uno, cinque, quattro, tre, due, uno. Poggi l'altezza del pezzo, via. Forza. Forza. 10 secondi di recupero, sit-up, gambe semiflesse, con la spinta delle braccia da dietro alla destra e siete neofili, altrimenti da qui, via. Su, 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 braccia indietro quando arrivo qui in alto. Ancora 8 secondi, andiamo. Con tre l'addome, su, aria, fuori, ultimo, stop. Adesso, semplicissimo, squat. 3, 2, 1, via. Bene il gesto tecnico, ma al massimo della velocità. Forza, non de mordere, stringi i denti. Dammi il tuo massimo. 3, 2, 1, ancora una. Stop. Andiamo a terra, ancora. Back pull, solleva leggermente il busto da terra. Quando? Ricambi le braccia. Vai. Sguardo fisso a terra, andiamo. Tira, tira, tira. Ancora 10 secondi, forza. 2, 1, qui, stop. Ci giriamo. Plutter kids, facciamo oscillare le gambe in aria. 2, 1, via. Tieni la lombare attaccata al terreno, forza. Respira costantemente. Ancora. 10 secondi, piedi a martello. Le punte vicino al tuo petto. I talloni lontano. 3, 2, 1, stop. 40 secondi di recupero. Ancora 30 secondi, partiremo poi con l'ultima parte, cardio, in cui faremo skater. Bello saltato, mi raccomando, non impattare la lombare. Vai bene in accosciata sulla gamba. Mountain climber a terra, jumping jack, full plank e squat. Jump esattamente fra 12 secondi. 3, 2, 1, via. Destro, sinistro, destro, sinistro. Bene, affonda, salta, è saltato. Ancora 15. Bene. Incrociato il piede posteriore. 5. 10 secondi di recupero da adesso. Poi ancora 30 secondi di mountain climber. 3, 2, 1. Via. Forza. Ritmo. Destro, sinistro, destro, sinistro, destro, sinistro. Andiamo. Leggeri. Il piede a contatto col terreno. 10 secondi. Forza. Andiamo. 1, 2, 1. Stop. 10 secondi di recupero. E poi jumping jack. 3, 2, 1. Via. Coordina muscolazione e respirazione. Andiamo. Ancora. 18 secondi. Via. Al massimo, ragazzi. Al massimo. Forza. Forza. Solo 5 secondi. Stop. Ce ne andiamo adesso a terra. E facciamo un full plank. Vedere basso. Ludo contratto. Quadricipite contratto. Mani sotto alle spalle. Qui via. Strizza l'addome. Questo non è un esercizio dinamico, ma è di resistenza isometrica. Forza. Recupera. Recupera. Strizza l'addome. Guarda l'ombelico. Spingi sulle mani. Crea una conca al centro del petto. Abbassa le spalle. Allontana le scapole. 3, 2, 1. Qui. Stop. Ultimo esercizio. Sarà tostissimo. Tra 5 secondi. Squat. Jump. Bello dinamica. Ammortizza il contatto col terreno. 2, 1. Via. Forza. L'ultimo esercizio. Qui dobbiamo spingere al massimo. 10. Forza. Stop. Ragazzi, ben fatto. 25 minuti di esercizi al massimo delle vostre potenzialità. Spero che vi sia divertiti. Spero che abbia trovato questo allenamento impattante. Sempre con il sorriso. È la cosa che dovrà rimanere stampata sul vostro volto al termine di questo allenamento. Memorizza questa sensazione di benessere e riportatela quando non avrà voglia di fare allenamento. Mi raccomando. Prenditi cura sempre te stesso. Fallo al massimo. Dagli a tutta. Faro al massimo. Trao al massimo. L'esha, le as就是 il Teore. Ciao. Ciao. Grazie a tutti.